E-Cube, il concorso per startup innovative, Call for Energy Saving per ridurre i consumi, Estra caffè per i dipendenti, sono i tre progetti Estra utili all'Italia presenti nel catalogo 2021 di Buone Pratiche di Utilitalia. È nata la carta delle responsabilità di Estra e il nuovo strumento digitale per i cittadini dove trovare le informazioni su modalità e procedure di vendita e distribuzione di gas ed energia. EstraEnergie rinnova anche per il 2021 la convenzione con Confcommercio di Pistoia e Prato che consente alle imprese associate di avere agevolazioni nella fornitura di gas ed energia elettrica. Centria, la società di distribuzione del gas di Estra, investe 1,8 milioni di euro per costruire la rete di 7,3 chilometri per portare il metano a Cercina, frazione del comune di Sesto Fiorentino.